6 studentesse di 15 anni in attesa di un treno per tornare a casa da scuola sono state molestate sessualmente da un uomo fuori controllo alla stazione ferroviaria di Fano. Si tratta di un 45enne originario di Bari, residente a Vicenza, che sabato scorso ha importunato le ragazze prima verbalmente poi fisicamente. Le giovani, sempre più terrorizzate, ad ogni tentativo provavano ad allontanarsi ma senza riuscirci. Lui le seguiva senza sosta, le raggiungeva e continuava nei suoi tentativi di approccio rivolgendo loro sia gesti volgari a sfondo sessuale che con espliciti inviti verbali e nonostante l'aspetto fisico evidenziasse palesemente la loro età adolescenziale, il 45enne arrivava anche a toccare con le mani alcune studentesse. Ad un certo punto quattro ragazze sono riuscite a salire su un treno in transito, mentre gli altri due hanno cercato di trovare un rifugio in mezzo ad un gruppo di coetani presenti sul piazzale, ma non c'era nulla da fare, l'uomo persisteva. Alla fine, in preda al panico, una di loro, in lacrime, è riuscita a telefonare al padre chiedendo aiuto e sul posto è arrivata una pattuglia della polizia che ha arrestato l'adulto con l'accusa di tentata violenza sessuale a danno di minori. Il molestatore era già conosciuto alle forze di polizia, a precedenti per spaccio di droga e reati contro il patrimonio. Grazie a tutti!